Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati dallo stadio Città di Corigliano, di Corigliano Calabro, dove andrà in scena la sesta giornata il campionato nazionale di Lettanti Serie D, Girone-I tra Corigliano e Licata. Di Coaccia che permette ad Asensio di involarsi, attenzione Asensio potrebbe allargare per convitto in aria, convitto e il tiro, la parata di D'Aquino, palla che resta lì, altro miracolo, poi a Deiemo e ancora un terzo miracolo di D'Aquino che nel giro di 10 secondi viene impegnato tre volte. Fantasmi con Nola, con un portiere capasso che ha parato di tutto, attenzione Asensio in aria, palla che circola, Serranda proprio là davanti, adesso Asensio di prima per Gallone, attenzione a Deiemo regolare, Deiemo sbaglia un gol quasi fatto davanti al portiere. Parte convitto, convitto, supera la barriera, traversa, palla che rimane in campo e ancora il Corigliano si salva, poi Doda, un fallo fischiato, Nicodemo inseguito da Asensio, ma c'è un passo diverso di Nicodemo, attenzione supera anche Cassero, Nicodemo siamo in aria, il tiro alto. Rincorsa di convitto che supera ancora la barriera, palla che si perde, alta però di un metro, D'Aquino ha controllato. Sarri attorno a Diebica riesce a divincolarsi, palla di prima per Adeiemo, di Gallone, Adeiemo potrebbe crossare, lo fa sul secondo palo, tutto solo Asensio, palla che passa, poi Gallone, il tiro schiacciato, salva. Con un colpo di testa strumpo, poi cosa porta, attenzione subisce fallo, ma si può continuare per il vantaggio, il cross sul primo palo, Ingrassia blocca, rimasto a terra. 4 contro 3, Asensio c'è sulla destra di Adeiemo, preferisce servire però convitto in anticipo, infusino. La rincorsa di Adeiemo, solito gruppone in aria, cross sul primo palo, Asensio la prolunga e il gol, ha segnato il Licata, Pasquale Porcaro porta il Licata in vantaggio al minuto 35, azione nata sul corner di Adeiemo. Molto intelligente, Asensio a prolungare la traiettoria, arrivato Porcaro in tuffo, in volo d'angelo al 35esimo minuto e cambiato il risultato qui a Corigliano, Corigliano 0, Licata 1, segnato il primo gol in campionato, Pasquale Porcaro. Di prima per Adeiemo, attenzione, Gallone si distende, Gallone, Gallone, Gallone va verso l'aria, Gallone entra nell'aria, il sinistro si dà a Quino ancora una volta. Gallone ha provato il tocco fine, Asensio guadagna un altro pallone, scambia con Edama, buono, stavolta il pallone per Convitto che in vantaggio Convitto trova Gallone in mezzo, Gallone ancora un salvataggio di Daquino. Col piedi di ritorno, incredibile. Può ripartire con Convitto, attenzione, Convitto, Convitto si può involare, Convitto col mancino, il cross per Asensio che è tutto solo in aria, il tiro sbagliato di Asensio, altra clamorosa occasione. Attenzione, Adeiemo scappa sulla fascia destra, punta strumpo, pallone basso, Asensio la cicca, altra grande occasione, Asensio. Si fa vedere, siamo al limite, Talamo, Talamo si accentra col mancino, tiro alto, quindi anche il Corigliano risponde presente. Non c'è fallo, palla per Adeiemo, Adeiemo punta il capozzo, palla per Convitto, Convitto il tiro, deviato poi ancora Asensio con l'esterno, stavolta c'è andato un po' più vicino. Passaro, Cosenza, Cosenza, il limite, il tiro basso, si allunga Ingrassia, non la tocca, la lascia scorrere. Attenzione, palla verso Schena, tutto regolare, l'arbitro dice che non c'è nulla. Nicodemo, Nicodemo punta dama, attenzione le finte di Nicodemo, Diabì, non c'è niente anche questa volta. È pericolosa, corner, palla tagliata in mezzo, il colpo di testa sul secondo palo, poi c'è un fallo subito da Ingrassia. Adeiemo allarga per Assensio, Assensio per Convitto, Convitto ancora per Assensio, regolare il tiro, salva Daquino. Azione clamorosa dell'Elicata e Assensio fallisce, ancora una volta il gol che poteva essere... A Deiemo, indietro per Sesai, Sesai per Convitto che va di tiro di prima intenzione, fuori di poco. Siamo sulla sinistra, Nicodemo fa il pass e la palla, Cosenza, anzi Talamo perde l'attimo. Daniello, pallone di ritorno per Capuolso e il cross, Cosenza la manca e poi Sesai aspetta l'arrivo di Strumbolo, supera Netto, Convitto. Attenzione, Convitto può puntare verso la porta, siamo al limite, Convitto, il tiro a giro, traversa di Convitto. Palla che però ancora in gioco, Sesai, Sesai entra anche lui in aria, Sesai la sterzata. Indietro verso Biondo, Biondo la mette sul destro, Santino Biondo, palla che resta lì, Convitto anche lui stavolta, salvato il Corigliano. Convitto, ultimi secondi, il rilancio adesso di D'Aquino, Fischietto in bocca e Elicata espugna il città di Corigliano per 1-0. In una gara che poteva essere sicuramente messa in sicurezza ben prima ma Elicata l'ha tenuto in bilico e il Corigliano ci ha provato.